Ciao a tutti ragazzi, riacomi qua, sono Megateaker e quest'oggi davanti a me abbiamo una webcam. Era un po' di tempo che ricevevo delle richieste, Megateaker cosa mi consigli? Vorrei iniziare a streamare qualcosa. Megateaker e i miei figli hanno bisogno di una webcam per la scuola e molti di voi appunto stavano cercando una webcam piccolina, non troppo costosa, ma che avesse delle prestazioni soddisfacenti. Ho fatto una grossa ricerca su Amazon, è veramente una giungla, ho scelto di puntare al prodotto meno costoso che trovavo, comunque uno di quelli che costavano di meno, e la mia scelta è ricaduta su questa che avete davanti. Anche se non so per quale motivo non è riportato sulla scatola, si tratta di una webcam della marca Monodial. Di fatto la risoluzione è 2K, andiamo un attimo ad unboxarla, a farvi vedere cosa c'è dentro, in una dotazione che per 29€ sinceramente trovo gradevole. Il corpo della webcam è qui dentro, vi ricordo che si tratta di una plug-in, quindi pronta all'utilizzo quando metterete semplicemente la vostra presa USB attaccata al computer. Plastichetta di protezione, leviamola un attimo, eccola qui. I materiali ovviamente, non mi aspettavo diversamente, sono molto molto plasticosi, però quello che vi vorrei far vedere è che è molto completa. Abbiamo uno snodo a 360 gradi, quindi un buon grado di libertà, un aggancio da monitor, quindi semplicemente andare a appoggiare sul monitor così, o anche attraverso questa vite possiamo andarla a mettere in un piccolo cavalletto. Piccolo cavalletto che tra l'altro è dato in dotazione, eccolo qui. Cavallettino che può venire sempre bene, snodabile, si mette nella posizione che volete e ci andate ad avvitare dentro la vostra webcam. Per quelli paranoici come me, poi in dotazione c'è anche il coperchietto da attaccare, volendo con un biadesivo qua davanti, si leva l'adesivo. E questo coperchietto ovviamente serve a tenere chiusa la webcam, in modo che nessuno vi possa spiare qualora un virus si impossessasse del vostro computer, o più semplicemente per quelli come me un po' sbadati, ma magari andate online, non vi siete accorti di essere online, ebbene il coperchietto vi eviterà delle brutte figure. Vado un attimo a collegare la mia USB al computer, perché vi voglio far vedere quella che è un'altra piccola feature di questa webcam. Qui sopra, anche se non è indicato in nessuna maniera, infatti io ho fatto un po' fatica a capire come funzionasse, c'è un sensore che avvertirà il vostro dito e accenderà una luce, un ring luminoso, su tre livelli di luminosità. Ovviamente non potremo illuminare la stanza, però se il nostro viso sarà abbastanza vicino al nostro portatile, al nostro monitor, questa luce sarà abbastanza potente da illuminarlo e far sì che la ripresa venga un po' migliore. All'interno troviamo un piccolo manuale che oltre a fornire quelle che sono di fatto le caratteristiche base, altro in realtà non fa. Direi di smontare un attimo il cavalletto, andare a posizionare la nostra webcam sopra il mio bel monitor della OC e farvi vedere un attimo cosa viene fuori registrando con questa. Eccola qua montata, semplicemente vedete si va ad appoggiare sopra il monitor, molto comoda. La vado ad affiancare alla mia vecchia webcam, anzi vecchissima a dire il vero, però che avevo pagato veramente veramente tanti soldi. Questa è in risoluzione full HD, questa appunto in 2K. Vi ricordo comunque che stiamo parlando di un prodotto ufficiale Microsoft di alto livello per l'epoca in cui l'avevo presa, mentre questa è una webcam sicuramente economica. Prima di passare alla prova pratica volevo farvi vedere qui su Amazon, dove l'ho comprata, le varie caratteristiche elencate per questa nostra webcam. Noterete che in foto è segnata la marca, cosa che nella webcam che è arrivata a casa non è segnata, ma spesso mi è capitato di vedere appunto in questi marchi cinesi che gli oggetti che arrivano non sono marchiati, o addirittura qualche altra volta mi è capitato di avere un rebrand dello stesso identico oggetto. Andando in descrizione troverete oltre le caratteristiche da me già menzionate, altre abbastanza interessanti come riduzione del rumore, autofocus e tutta la sfilza di applicazioni con le quali la nostra webcam sarà compatibile. Ma ora bando alle ciance andiamo a vedere effettivamente come lavora. Rieccoci qua ragazzi, eccomi qua, doppio brutto faccione in sovrappressione, ad ogni modo nella parte superiore avremo la nostra webcam da recensire, mentre nella parte inferiore la webcam della Microsoft. Come potete notare la webcam della Monodial è molto più grandangolare, quindi riprende la mia stanza degli orori, qua ci giocano i bambini e abbiate pazienza alle mie spalle, una casa enorme di Barbie, però c'è anche il papà motociclista come vedete qua in alto. Si vede un po' meno invece il vario casino nella stanza qua dalla webcam della Microsoft. In questo momento come potete vedere webcam da recensire Monodial, ci vado sopra, abbiamo una risoluzione di 1560x1440, gli fps elevati, credo che al massimo siano 30, anzi tolgo il credo sono 30, mentre invece per l'altra webcam abbiamo una risoluzione massima, come vi dicevo era 1280x720 e sempre fps elevati ma in realtà sono 30. Facciamo un attimo una prova di scorrimento, di fluidità, cosa vedete più fluido, a me sembra che la Monodial lavori meglio, effetto scia minore. I colori a dire il vero da quello che vedo, se gli occhi non mi tradiscono, mi sembrano migliori nella Monodial, la Microsoft mi sembra una colorazione più carica e meno reale. Andiamo per un attimo a stoppare il microfono della registrazione, a vedere come registra l'audio. Prima la Microsoft... Eccomi qua con l'audio della Microsoft, io vedo dalle lineette che spara bomba, è molto sensibile, però ovviamente la qualità me la direte voi, la confronteremo con l'altra. L'altra è con la qua, vedo dalle lineette qui che probabilmente è meno sensibile, andremo a vedere però se la qualità sarà maggiore o minore della webcam appunto della Microsoft. Prima di passare alle conclusioni, sempre in questo momento l'audio deriva dalla Monodial, volevo fare una prova a condizioni di scarsa luminosità. È il giorno ma vi assicuro in casa mia è veramente buio, anche per abito di un cemiterato, ho chiuso le tende, ho chiuso la porta alle mie spalle. Come vedete forse la Monodial sgrana un pochettino. Andiamo per un attimo ad accendere, vediamo se migliora in qualche modo la ripresa con le lucine accese. Così al massimo vedete che in questo momento la Microsoft ha fatto fatica a mettere a fuoco. Faccio quindi una prova ormai mastuzzicato, passo davanti e effettivamente forse Microsoft fa più fatica a lavorare in queste condizioni di luce. Ovviamente poi vedremo nello schermo grosso le differenze meglio rispetto a qua che sono su Streamlabs e vedo tutto un po' piccolino. Per parco indicio ripasso un attimo all'audio della Microsoft, così possiamo fare un altro piccolo confronto. Adesso chiudo tutto, ripassiamo sulla nostra postazione per quelle che sono le conclusioni su questa piccola webcam. Rieccoci qua ragazzi per le conclusioni di questo video e quindi andare un attimo ad analizzare se secondo me è valsa la pena spendere 30 euro per questa piccola webcam. E la risposta sinceramente è sì. Ovviamente non si grida al miracolo come avete visto e ho rivisto anch'io nella registrazione. In condizioni di scarsa luminosità, beh non lavora sicuramente bene. La luce non sopperisce appunto la mancanza di luce nell'ambiente, ma vi assicuro che eravamo in quell'attimo veramente al buio. In condizioni di luce normali mi è sembrato che invece la fotocamera addirittura lavorasse meglio della webcam della Microsoft. Per quanto riguarda l'audio poi sinceramente l'ho trovato un po' basso, ma comunque mi sembra più pulito e più fedele rispetto all'audio più squillante e garacchiante della Microsoft. Ripeto, è un acquisto che va considerato sulla base del prezzo che costa questo oggetto. Un oggetto veramente polivalente con una dotazione abbastanza ricca che ovviamente è destinata a un utilizzo dilettentistico qualora voleste fare streaming. Sicuramente va bene per fare riunioni di lavoro e assolutamente valida anche per la DAD. Ovviamente quest'ultima si spera che venga eliminata il più presto possibile. Per questo video quindi è tutto ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like, registrate il canale, condividetelo, andate giù in descrizione a vedere quelli che sono i link utili per aiutarmi a crescere. Troverete anche tutte le informazioni sulla mia attrezzatura, su quello che uso di solito. Così come tutte le console in mio possesso, il PC, la componentistica interna. Insomma se trovate qualcosa di interessante che volete andare a comprare fatelo dal link qua sotto. Ancora un salutone qua ai Megaticker, ci vediamo alla prossima e ciao!